Ecco, un nuovo giorno è nata a Vieste. Il sole ha fatto capolino dietro il trabucco di Punta San Francesco, illuminando Pizzo Munno e dando così inizio a un nuovo giorno. Il nuovo giorno è già iniziato per a Vieste al mercato, al centro della cittadina garganica, mercato ortofrutticolo, che ogni giorno è il biglietto da visita di Vieste. Biglietto da visita particolare, che con l'alchimia dei suoi colori, suoi dori e suoni, ammaglia tutti i turisti. Colori vivi, sgargianti dei prodotti locali, dal rosso dei peperoni e peperoncini, muta in verde e in giallo, e in bianco e in verde, offrendo i suoi prodotti migliori. Così cipolle, aglio, capperi e olive fanno a gara con la frutta sempre ben allineata e invitante. Mercato particolare, che può fare di certa gara con mercati ben più blasonati di città metropolitana. Qui ti accoglie l'invito dei venditori, che facendo la gara tra loro, reclamizzano i prodotti, offrendo con spontaneità disarmante ricchi assaggi e porzioni abbondanti, che quasi ci si riempie la pancia. Prodotti locali, salsicce, salumi, in un turbinio di odori che ti stordisce, ti prende, caciocavalli che sudano, restando così più pieni di sapore e gusto. Il mercato di Vieste è questo. È una vetrina particolare, dove oltre alla genuità dei prodotti, c'è l'anima stessa di Vieste. Anima che va via via cambiando, adattandosi e esaudendo le richieste di genuinità e bontà di turisti sempre più esigenti, attenti alla ricerca di quei sapori creduti persi e che qui invece possono riscoprire. Scaffalli pieni di prodotti genuini, vasi e bottiglie disposti, allineati e ordinati, quali soldati in battaglia e file e file di cipolle e aglio, ma anche di salumi e salsicce. Vieste al suo mercato allora ti catturano e ti prendono e ben difficilmente entrati in questo mondo puoi uscirne senza aver avuto la voglia di conquistare anche tu quei sapori che della terra garganica di sicuro porterà via con te e allora il sole sorto per il nuovo giorno ti avrà regalato qualcosa in più, ti avrà dato un suggerimento in più per apprezzare questi prodotti che alla loro base hanno genuinità e sapore. Sperando di aver fatto cosa gradita, un caro saluto il vostro Angelo.